ancora ben trovati dalla redazione di firenze smart in studio agnese fedeli vediamo la situazione del traffico della mobilità in toscana in questi minuti a cominciare dall'autostrada in a1 rallentamenti per perdita di carico verso nord tra via 1 variante e sasso marconi troviamo in oltre coda per traffico in uscita a firenze scandici nelle due direzioni e rallentamenti per traffico tra calenzano via 1 variante in direzione nord in a11 coda per viabilità esterna che non riceve tra sesto fiorentino e firenze per etola verso il capoluogo ci spostiamo in fipili per lavori permangono due chilometri di coda tra empoli ed empoli est verso firenze si tratta di lavorazioni al viadotto ponzano sempre verso il capoluogo rallentamenti tra la strassigna e firenze scandici prima di salutarci per il traffico ferroviario per presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria nei pressi di roma tiburtina i treni percorrenti la linea firenze chiusi roma potranno subire ritardi variazioni o cancellazioni può versi in toscana infon servizio in collaborazione con la regione toscana città vero politana firenze comune firenze per ora è tutto buon viaggio